Dopo aver pubblicato ieri un video sull'euro, oggi avrei voluto trattare l'argomento Unione Europea, ma leggendo alcuni commenti che avete voluto postare a margine del video di ieri e dopo aver risposto ad alcuni di questi commenti, insomma riflettendo sul fatto che le risposte scritte ai commenti sono lette poi alla fine solo da pochi ascoltatori, allora ho ritenuto che fosse così utile pubblicare un video nel quale rispondo ad alcune vostre osservazioni, cerco di essere sintetico. Cominciamo col primo commento, sono in ordine casuale. Non pensa che, avendo la lira, gli interessi sul debito pubblico costerebbero il doppio rispetto al tasso attuale. In più i nostri politici avrebbero mano libera nella spesa, tanto pagheremmo tutti noi con il meccanismo inflazione-svalutazione. Con simpatia. Allora, non è detto che i tassi debbono aumentare in maniera significativa. Per assurdo, se la Banca Centrale si impegnasse ad acquistare tutti i titoli dello Stato emessi ad un tasso molto basso, potremmo addirittura diminuire il costo degli interessi sul debito pubblico. Ma, come certamente sapete, conoscendomi, io sarei assolutamente contrario a questo che, insomma, potremmo definire metodo Giappone che vedo sempre io come un'anticamera del fallimento dello Stato. Tuttavia, anche se personalmente ritengo che effettivamente i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico potrebbero aumentare con il ritorno alla lira, io comunque sono convinto che ad un tasso di interesse che definirei adeguato, molti italiani tornerebbero ad acquistare i nostri titoli dello Stato, come facevano d'altronde negli anni in cui avevamo la lira. E se gli interessi pagati andassero alle famiglie italiane potrebbero poi spendere sempre nel nostro paese questi interessi incassati, beneficiando così la nostra economia. E ancora, io continuo a sostenere che il ritorno alla lira darebbe un enorme giovamento al nostro prodotto interno lordo, proprio perché ci farebbe guadagnare competitività, quindi il rapporto debito-PIL ne avrebbe un gran beneficio. Infine, se la banca centrale non si facesse influenzare dal potere politico, ossia se la banca centrale facesse il proprio lavoro e rimanesse quindi indipendente, i politici non avrebbero mano libera nella spesa. Altra domanda. Si può fare un referendum per uscire? La risposta purtroppo è no. La nostra Costituzione non prevede la possibilità di ricorrere al referendum per quanto riguarda i trattati internazionali e l'Unione Europea è un trattato internazionale. Poi passiamo alla prossima domanda che naturalmente non poteva mancare. Sentite. Ma dottor Marcotti, siamo entrati male con un cambio assurdo, 1936,27 lire per un euro? C'è il rischio di uscirne ancora peggio. Allora, i miei più affezionati ascoltatori penso che saranno stufi di sentirmelo dire, ma a loro rispondo, beh, come vedete ci sono sempre persone che continuano a ripeterlo e a mia volta ovviamente mi costringono quindi a ripetermi. Allora, il cambio 1936,27 fu il cambio corretto. Nella realtà, essendo l'euro una moneta nuova, non era sull'euro che doveva essere stabilito un cambio, ma il cambio doveva essere stabilito con le altre monete nazionali ed in particolare quindi ovviamente con il marco tedesco. E allora quel cambio che sembra astruso, 1936,27, invece va letto come 990 lire per un marco tedesco che era il cambio ufficiale. In quel momento, 31 dicembre 1998, data della fissazione dei cambi. Ribadisco quindi per l'ennesima volta, ma sono certo che non sarà neppure l'ultima. Il problema dell'euro non è nel cambio, ma sta nel fatto che quel cambio, una volta fissato, non si muove, mentre le diverse economie dei vari stati invece si muovono e come si muovono? In pratica dal 31 dicembre del 1998 ad oggi, ossia dopo quasi 26 anni, il cambio fra Lira e Marco è rimasto invariato a 990. Questo cambio, che andava bene il 31 dicembre 1998, non va assolutamente bene e oggi. Basta vedere in questi 26 anni quanto è cresciuta l'economia tedesca rispetto alla nostra. Nuova domanda. Serve una Lira legata all'oro, come stanno facendo i BRICS. Questo eviterà spirali ribassiste come in Venezuela. Allora, anche qua, nessuna moneta è legata all'oro e non da adesso. Praticamente mai le monete sono rimaste legate all'oro, anche se veniva dichiarata la convertibilità. Io avrei voluto vedere se tutti i cittadini, anche tantissimi anni fa, se fossero andati a chiedere di convertire le loro banconote in oro, cosa sarebbe successo. In tempi recenti poi si è anche fatta cadere questa che, vabbè, era una semplice panzana, ossia quella delle riserve in oro che avrebbero garantito la moneta emessa. Adesso, quindi, è chiaro, spero a tutti, che le monete sono solo fiat e non potrebbe essere, altrimenti è normale che sia così. Legare la moneta ad un singolo bene e non a tutti i beni è un non senso. Perché quel bene, prendiamo ad esempio appunto l'oro, dovrebbe avere il valore di tutta la moneta emessa. Capite che non ha senso. La moneta rappresenta l'intera economia, non solo l'oro. qualsiasi cosa, un paio di occhiali, un telecomando, un rotolo di scotch, un cellulare, naturalmente avete capito, insomma, sto elencando delle cose che in questo momento sono sulla mia scrivania, ma anche la mia scrivania stessa, naturalmente, tutto questo è stato prodotto emettendo moneta. Quindi il valore della moneta è data da tutto ciò che si è prodotto emettendola, naturalmente non solo i beni fisici, ma anche i servizi. Anche l'eventuale futura moneta dei BRICS, io non so se verrà mai emessa, ma potrà essere solo Fiat. Passiamo a un'altra domanda. Marcotti, ma se con l'euro i prezzi delle cose sono lievitati, tornando alla lira pagheremmo queste cose con il prezzo ancora in euro, esempio una pizza a 20.000 lire che per l'epoca era una follia? E certo, non è che passando alla lira i prezzi scendano. Ormai gli aumenti ci sono stati e non li tira via nessuno. Ma in ogni caso, guardate che dall'introduzione dell'euro, ripeto, 31 dicembre 1998, sono passati più di 25 anni, quindi è ovvio che in questi anni ci sia stata anche dell'inflazione. Il grande vantaggio per l'Italia, qualora tornasse ad una propria moneta nazionale, deriverebbe dall'aumento della competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Questo non solo ci darebbe un enorme vantaggio per quanto riguarda la bilancia commerciale con l'estero, ma farebbe tornare in Italia la produzione che in gran parte abbiamo delocalizzato per recuperare la produttività persa in tutti questi anni nei quali abbiamo avuto l'euro. Vabbè, cari ascoltatori, guardate io mi ero preparato anche la risposta ad altri vostri commenti, ma come sapete io mi sono sempre ripromesso di fare video che durino all'incirca una decina di minuti. Quindi ditemi voi, ecco, se vi interessa che io continui a darvi risposte ai vostri commenti sul tema euro e moneta, beh, fatemelo sapere nei commenti.